Un segnale arrivato dal Governo, considerato importante dalle organizzazioni di categoria, in particolare dalla Col di Retti. Nella convinzione si possa arrivare al più presto alla dichiarazione dello Stato di calamità naturale, con cui sarebbero immediatamente attivate misure di sostegno in favore degli imprenditori olivicoli, attraverso sgravi delle contribuzioni previdenziali, sospensione o dilazione delle scadenze fiscali e posticipo per il pagamento di mutui e investimenti per cinque anni. Il Governo ha dato il via libera alla deroga che consente l'utilizzo del Fondo di Solidarietà Nazionale per indennizzo degli agricoltori e dei vivaisti danneggiati dalla Xilella. Stanziati 11 milioni per interventi ad hoc, il decreto contiene importanti norme per il piano olivicolo nazionale, tra cui la costituzione di un fondo per interventi nel settore, con una dotazione iniziale pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Dopo la proposta assurda e inaccettabile dell'Unione Europea, dal Governo nazionale un segnale importante che dovrà essere sostenuto da risorse finanziarie più adeguate. Le organizzazioni di settore sono intanto mobilitate per arginare il contagio, con la diffusione capillare di buone pratiche agricole, ma anche con il sostegno e il coordinamento dell'attività di ricerca fondamentali per difendere le 11 milioni di piante millenari del Salento e salvare un bene della Puglia, dell'Italia e dell'intera umanità.